Buonasera Antonio Scurati Benvenuto Antonio Scurati in libreria con Bonpiani, l'ora del destino la quarta, diciamo il suo quarto libro su Mussolini Mussolini che entra, l'Italia che entra in guerra nel suo ultimo romanzo racconta appunto l'Italia che entra in guerra e racconta un Mussolini che si ingaggia proprio con Hitler in questo rapporto complicato però l'Italia non ha nemmeno la benzina da mettere nei carri armati Sì, non ha i carri armati e non ha la benzina da metterci dentro l'Italia che io racconto è un'Italia sul bilico di un baratro, di un burrone e la sua guida, Benito Mussolini, guarda dentro questo burrone ne vede l'abisso è ormai del tutto consapevole che l'Italia è impreparata militarmente a combattere la guerra, è impreparata industrialmente, è un paese arretrato è consapevole del fatto che gli italiani non vogliono combattere sicuramente non vogliono combattere al fianco dei nazisti e vede perfino il volto demoniaco di Hitler io mi sono chiesto in questi libri ma Mussolini all'epoca lo vedeva il volto demoniaco lo vedeva? lo vedeva e ne aveva paura e perché lo insegue? lo insegue per un misto di furbizia politica che io credo, non so cosa ne pensi lei, sia una delle maledizioni del nostro paese pensi che Mussolini è convinto di poter giocare Hitler sul tavolo della sua maggiore abilità tattica lui di guerra non capisce niente e non vuole capire è il leader di un paese in guerra che non è preparato a combatterla non vuole combatterla non ha i mezzi per farlo e trascina gli italiani, li manda a uccidere e a morire sapendo tutto questo pensando di poter giocarsi Hitler al tavolo dell'astuzia eppure ancora oggi sentiamo nelle file della destra dire Mussolini, un grande statista guardi, le racconto un piccolo aneddoto io alla fine faccio questo, sono un narratore e al suo pubblico nell'anno del signore 1941 Benito Mussolini dopo aver dichiarato guerra all'impero inglese che allora era ancora tale alla Francia nell'arco di sei mesi dichiara guerra all'Unione Sovietica e agli Stati Uniti d'America quando il 22 di giugno del 1941 Hitler scatena l'operazione Barbarossa invade gli spazi sconfinati della Russia senza avvisare l'alleato perché non si fidava nemmeno di comunicargli alla data dell'inizio delle operazioni nulla obbliga e nessuno obbligano Mussolini a seguirlo in questa impresa c'è un trattato ma il trattato prevede che l'alleato soccorra l'alleato solo in caso in cui venga aggredito ma lì l'aggressore è Hitler Hitler non vuole gli italiani eppure Mussolini che è al mare a Riccione in costume da bagno dichiara guerra all'Unione Sovietica no io non voglio fare la caricatura di Mussolini ho scritto 3000 pagine per non farne la caricatura però lui è al mare in spiaggia e da lì si precipita a dichiarare guerra all'Unione Sovietica scrive lettere a Hitler in cui lo implora di accettare una compartecipazione italiana e Hitler, sono documenti, io li riporto gli scrive, cerca di risuaderlo in tutti i modi gli dice guarda amico mio perché lo considerava davvero un amico gli dice noi stiamo incontrando delle resistenze sul fronte orientale che non immaginavamo c'è un carro armato gigantesco che ha una corazzatura di 75 mm che soltanto i nostri Panzer IV riescono a perforare state a casa questo grande statista va contro i carri armati con la corazzatura da 75 mm va, manda i nostri nonni non avendo nemmeno una divisione corazzata li manda a combattere una guerra di tank senza i tank eppure questa immagine dell'eroismo degli italiani che ci insegue tra poco ci saranno le commemorazioni eroiche della battaglia di El Alamein visto che il Ministero della Difesa prepara il discorso di eroismo, di commemorazione il Presidente del Senato, la russa, subito si allinea in questa celebrazione di El Alamein vogliamo dire qualcosa su questo? no, nessuna celebrazione è lecita El Alamein fu intanto una sconfitta l'ultima di una serie di sconfitte patite dagli italiani inviati del tutto impreparati alla guerra da Mussolini a uccidere e a morire io voglio ricordare questo io cerco di raccontarlo nel romanzo gli italiani combatterono su 5 fronti di guerra nella Seconda Guerra Mondiale Francia, Albania, Grecia, Jugoslavia, Russia e Nord Africa sempre da invasori sempre da aggressori e sempre da sconfitti El Alamein è l'ultima di una serie di disastrose sconfitte di cui furono responsabili anche alcuni marescialli d'Italia ancora oggi idolatrati dai nostalgici del fascismo Rodolfo Graziani Rodolfo Graziani dopo aver deportato 100.000 civili in Libia nel 31 dopo aver usato l'iprite sui civili etiopici nel 35-36 nel corso della guerra si macchia di degli errori e delle forme di vigliaccheria estreme possiamo anche dire che fortunatamente i fasci nazisti persero ad Alamein se no il destino degli ebrei di Israele forse sarebbe cambiato ma io voglio sottolineare la follia di avere ancora delle idee nostalgiche nei confronti di questi personaggi eppure Scurati alla fine del suo viaggio un viaggio proprio nella mente di Mussolini si dà una risposta che cosa di lui ha davvero affascinato e abbindolato gli italiani? provo a dargliela subito però prima mi faccia dire una cosa non celebrare El Alamein ma commemorare sì a El Alamein combatterono con valore moltissimi italiani e morirono moltissimi italiani si contano quasi tra morti, ferriti e deportati 50.000 italiani allora se lei mi dice è pronto a commemorare il sacrificio la tragedia di quegli italiani inviati erano mandati al sacro certamente certamente va fatto io la racconto attraverso Paolo Cacciadominioni che fu una medaglia d'oro militare che fu un grande italiano che combatte lì con valore sa cosa fece finita la guerra Paolo Cacciadominioni geniale ritrattista grande ingegnere vagò nei deserti per creare un sacrario alla memoria dei suoi commilitoni caduti questo sì è quello che anche Mario Rigoni Stern fece in Russia ha dedicato la vita a raccontare rivelare l'orrore della guerra e a commemorare i caduti questo sì l'elemento di fascino di Mussolini sugli italiani più forte qual è? allora intanto sono due intanto Mussolini era l'arci italiano lui aveva tutti i difetti del carattere nazionale era cialtrone era sbruffone era incostante era impulsivo era tracotante ma riuscì a farne delle virtù agli occhi del popolo e poi quello più importante secondo me che prescide da questa cosa molto italiana che riguarda l'Europa e il mondo oggi Mussolini come io cerco di di sostenere i miei libri è stato non soltanto il fondatore del fascismo è stato il primo leader populista dell'età moderna Mussolini è stato uno straordinario politico con delle idee che hanno guardato molto in là non era affatto un personaggio buffo comico era un personaggio tragico che ci trascinò nella tragedia e al cuore della sua seduzione populista che sedusse quasi tutti gli italiani c'è questa capacità di ergersi a quando noi diciamo l'uomo forte ma cos'è l'uomo forte? l'uomo forte è il padre perverso che dopo averti spaventato ti racconta la favola della buonanotte ti dice il mondo è terribile far paura ci sono ci sono io che ti posso difendere e io ci sono che ti posso difendere dormi bambino dormi ci penso io dormi bambino dormi senti a distanza da quel fascismo che ha così devastato diciamo il nostro il nostro paese oggi il presidente Mattarella ha ribadito che la costituzione italiana tra le varie cose è antifascista l'ho proprio detto con queste parole eppure oggi abbiamo una presidente del consiglio e un presidente del senato che si rifiutano sistematicamente di dichiarsi antifascisti io lo chiedo ai miei ospiti continuo a domandare perché guardi è il motivo per cui io mi sono trovato bersagliato lasciamo perdere censurato bersagliato insultato per settimane da tutte le televisioni e i giornali collaborazionisti stavo per dire fiancheggiatori diciamo così perché ponevo questa questione al presidente del consiglio perché lei si ostina a non nominare la parola resistenza la parola antifascismo io vorrei dire questo l'antifascismo non è un gruppo di giovani radicali estremisti fanatici i cosiddetti antifa l'antifascismo non ha niente a che vedere almeno quello che noi rivendichiamo con quei delinquenti assassini che negli anni 70 in nome dell'ideale comunista insanguinarono le nostre strade l'antifascismo è il presidente Mattarella l'antifascismo sono le donne le mogli le madri le figlie d'Italia che per la prima volta finita la guerra e finito il fascismo hanno potuto votare l'antifascismo è il nonno che porta il bambino per mano in piazza il 25 aprile gli mostra il tricolore e gli dice puoi essere fiero di questa bandiera perché simboleggia la democrazia questo è l'antifascismo ma si può dire non siamo antifascisti perché non c'eravamo durante il fascismo in fondo quello che ci raccontano Giorgio Meloni è nato nel 1974 non ha vissuto il fascismo quindi non può essere antifascista io adesso non voglio far polemiche personali perché questo paese è avvelenato dalla polemica personale e dall'attacco a livello personale però intanto il presidente del consiglio viene dal neofascismo e quindi secondo me dovrebbe rendere conto la nazione in un processo di revisione pubblica che aiuterebbe anche la coscienza nazionale a progredire di questo suo passato ma come le ho detto non si può dire una cosa del genere l'antifascismo oggi più che mai proprio perché il fascismo storico è molto lontano è una forma di militanza pacifica e serafica a favore della democrazia tra l'altro sbaglio o la sua la mancata presa di distanza del governo e anche delle istituzioni come il presidente del senato dal fascismo è stata una delle ragioni per cui lei non ha accettato l'invito diciamo a Francoforte governativo diciamo così di rappresentare gli scrittori poi c'è andato naturalmente invitato direttamente dalla fiera di Francoforte ma c'è questo elemento? ma certamente è questo il motivo guardi io rifiutai in maniera esplicita ma privata non diri pubblicità alla cosa perché non cerco pubblicità dicendo non intendo far parte di questa commissione prima del caso Saviano prima del caso Scurati poi veniamo ridotti a casi capito? è questa la cosa triste perché? perché l'allora ministro della cultura si rifiutò pubblicamente certo magari un po' tallonato da un giornalista petulante per carità si rifiutò pubblicamente di dichiararsi antifascista allora io rifiutai di essere parte di un comitato governativo il cui capo si rifiutava di dichiararsi antifascista non per un atto di ribellismo ora sa come ci chiamano dissidenti cioè è già una parola da regina da una parte siete dissidenti dall'altra siete quelli che hai fatto i soldi col fascismo lei è uno che ha fatto i soldi col fascismo non è la narrazione che viene fatta degli intellettuali che rompono le scatole si offende ci ride sopra qual è la sua no non ci rido sopra perché quando la seconda carica dello Stato non avendo altri argomenti arriva è la prima carica del governo arriva ad attaccare sempre ad altezza d'uomo a livello personale capisce con un insulto di tipo personale che getta discredito e diffama sul piano morale un individuo un intellettuale che ha semplicemente esercitato il suo diritto di critica questo a me inquieta profondamente per lo stato di salute della nostra democrazia non ne faccio una questione personale ne faccio una questione di stato di salute non è una cosa normale non è una cosa normale perché c'è un'assimmetria un'assimmetria nell'attacco tra chi ha il potere politico e la stanza dei bottoni e chi esprime delle idee solo scrivendo certo ma c'è anche un'assimmetria tra chi esercita una critica culturale con degli argomenti e chi ti attacca sul piano personale dandoti del farabutto guardate che è una cosa è un po' la stessa differenza che passa tra uno che usa le parole e l'altro che risponde con uno schiaffo senta Scurati però noi assistiamo anche a un tentativo della destra di riequilibrare la cosiddetta egemonia culturale della sinistra un tentativo di dire basta cioè non è possibile che non si possa trovare uno spazio per gli intellettuali di destra per un pensiero colto della destra cosa c'è di sbagliato in questo ragionamento ed è vero che la sinistra ha avuto un'egemonia culturale anche sulla base di clientelismo amichettismo favoritismi guardi in questo ragionamento non ci sarebbe niente di sbagliato nella mia modesta formazione intellettuale entrano in maniera sostanziosa alcuni grandi intellettuali di destra anche di estrema destra ma ci mancherebbe chi potrebbe uomo di cultura potrebbe negare come dire la frequentazione l'impollinamento reciproco tra destra e sinistra ma non è questo che sta accadendo non è questo che cosa sta accadendo se loro cercassero il potere della cultura benissimo benissimo sarei il primo io ad ascoltare con attenzione loro cercano il potere sulla cultura è una cosa diversa in uno stato liberale in uno stato liberale un ministro della cultura neoeletto lasciamo perdere il lessico che usa che poi scade tutto sempre in barzelletta non esprime una propria veltancian una propria visione del mondo e cerca di affermarla attraverso la leva politica mette tutti quanti in condizioni di fiorire culturalmente guardate che è una cosa diversa allora per loro è fondamentale il discorso dell'egemonia culturale perché la riscrittura della storia sulla base di una memoria partigiana faziosa polemica identitaria ideologica è parte integrante del loro programma politico cioè loro usano la politica per schiacciare la cultura non usano la cultura per fare politica senta c'è però un'allergia diciamo al tema del fascismo oggi cioè anche chi come noi per esempio parlo anche di me batte molto sul tema di quelle che sono le scorie fasciste o ne fasciste nella politica italiana viene tacciato di guardare all'indietro di non guardare ai veri problemi del paese di fare una critica di retroguardia così come si trova insopportabile utilizzare in maniera estensiva fascismo per fenomeni che sono moderni Orban Trump Putin e così via lei che cosa pensa di tutto questo? Allora io penso due cose uno che se una formazione politica che ha responsabilità di governo dimostra attraverso i suoi rappresentanti in molti modi di non aver reciso le proprie radici nel recente passato neofascista non in quello fascista di cent'anni fa beh questo pone un problema politico perché poi significa che attingerà le proprie idee i propri orientamenti verso il futuro i propri programmi da quella tradizione di cultura politica che non è il conservatorismo liberale e questa è una cosa l'altra è guardi io ho studiato troppo a lungo e raccontato troppo a lungo il fascismo storico quello di cent'anni fa per fare un uso disinvolto della parola fascista io sono abbastanza contrario a usare anzi totalmente contrario a usare il fascismo come stigma no? per qualsiasi cosa non ci va bene anzi ho scritto anche un libro per cercare di spiegare le similitudini che ci sono e le differenze tra fascismo e populismo però facciamo un reset linguistico ribaltiamo la questione invece di chiederci se Orban Trump e compagnia sono o non sono fascisti mi chiedo e le chiedo usiamo questa cartina di tornasole Orban Trump e compagnia sono davvero dei sinceri democratici? e questo è il punto cioè capire quanto della democrazia rimane in questi progetti politici e quanto rimane del rispetto dei diritti e delle democrazie liberali e questo è il punto certamente e quindi la stampa la separazione dei poteri la libertà di stampa la libertà di manifestazione del pensiero e della protesta tutto questo diciamo noi poi laddove viene a cadere lo possiamo chiamare sommariamente fascismo non è fascismo è una forma moderna di autoritarismo a cui potremmo dare un altro nome ma non è meno preoccupante tutto questo il mio punto è questo dire fascista è fuorviante no perché le camicie nere non torneranno perché non fanno un uso fisico della violenza se non delle frange estreme allora chiediamoci questo torno a dirlo sono dei sinceri democratici li potremmo definire tali e temo che la risposta sia no l'ultima domanda che le faccio riguarda appunto un uomo che ha attraversato con quattro libri molto belli molto densi appassionanti la fascinazione di un popolo e la diciamo l'ascesa e il tramonto di un dittatore questo desiderio dell'uomo forte dell'uomo che decide e poi però ti protegge anche c'è ancora in Italia c'è questa pulsione profonda cioè insomma la democrazia come la conosciamo la possiamo dare per scontata in Italia no assolutamente guardi io sono un ragazzo degli anni 80 sono cresciuto in un momento storico privilegiato non so se lei quanti anni ha Formigli 1968 lei 69 allora siamo a quest'anno dunque non so se se lo ricorda era sempre sabato sera e stavamo sempre andando a una festa va bene abbiamo avuto molti privilegi però abbiamo vissuto di alcune illusioni una di queste è stata proprio che la democrazia fosse come una sorta di dato di natura come il cielo il mare e invece no la democrazia l'avevano conquistata pagando di persona i nostri padri e i nostri nonni e noi secondo me gli dobbiamo e dobbiamo ai nostri figli almeno questo cioè ricordarci che la democrazia è sempre lotta per la democrazia grazie grazie a Antonio Scurati l'ora del destino è naturalmente in libreria grazie davvero